Allora, dai, lo so che c'è delay, se stai ascoltando quando vuoi procedi pure Big Boys Time, no ma non è roba mia questa, non è roba mia Io ho un complice che mi gira questi contenuti, 17esimo al mondo Per Alessio Godmode, come sapete, per i pochi che non lo conoscono Alessio quest'anno è stato uno dei più forti giocatori su Xbox Quindi, si è fatto un paio di eventi, ma non mi ricordo quanti Comunque, Top Lai è incredibile Come vedete, 17esimo in the fucking world su Xbox Vediamo se la fortuna lo premierà Mi avevi preso sul serio? Allora, pick numero 5 Vabbè, un 93 Poi Un altro, 93 Fino a che escono Ah, è indeciso, è indeciso se prendere Mucchiele O il 93 Questo Mucchiele fa venire i dubbi a molti Ma alla fine, da uomo vero opta per Courtois Che fa con Mucchiele? Poi Ah, Viro, Philips Questo l'ho provato, poca roba però Stil 92 È il primo Philips che vedo nei pick personalmente Con tutti questi 93 è uscita praticamente l'icon gratis eventualmente E infine E infine Pur Busquets ti è Quindi 4 93 e un 92 Deserved Deserved Oh, ha fatto il 17esimo al mondo Non ha mica rubato niente Allora, poi c'è da aprire L'incredibile Big Boy Da 11 Top Meritato, meritato Quando fanno top 100 Fuori classe 1 Non c'è da triggerarsi Vabbè E giustamente non c'è Gomez I Gomez li droppano Negli account Road to Glory Dei culoni Ebbè Che io vedi Poi Big Boy Time Ma che fai? Apri pure gli altri Allora Ti sei chiusa la vena E avevi detto che volevi aprire solo i tot È partito Attenzione Però abbiamo un walkout Italia DC Bonucci Gomez Lo danno solo a chi fa argento Per me è Sien Blurry Più tardi Più tardi Bingo Quando saremo più di 1000 Facciamo qualche bingo Later Vi ricordo a tutti Che digitando punto esclamativo Pick Tots Vi escono Vi esce il video È partito È partito adesso Senza indugi Senza Glitch Vediamo cosa si nasconde in questo Big Boy Da 11 tops Courtois Beh Magari C'è dell'altro sotto Speriamo che ci sia Almeno Simon Vabbè la mia dashboard Allora non è aggiornata Comunque Later Later lo facciamo Uno Non vi preoccupate Vediamo un po' Gomez Gomez C'è proprio lui C'è Gomez Big Boy Time Appero 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 Ti è Un milione e cento di giocatore Deserved Totally Totally Deserved Se non lo danno A un top cento A chi lo devono da Perdonate Con tutto il bene Però Finalmente abbiamo visto Un Gomez Una bella Soddisfazione Allora Grazie ancora Alessio Per questo incredibile Contenuto Quando vuoi A disposizione